Vacanza nella neve, a S. Moritz, per Luigi Berlusconi, la moglie, Federica Fumagalli, i loro figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, e anche Ettore V, l'ultimo genito di Barbara Berlusconi. Luigi e Federica così oltre a fare i genitori sono stati anche degli i bambini che hanno tutti più o meno la stessa età hanno giocato e si sono divertiti sulla neve con lo slittino. Non sono mancate le coccole e i momenti più teneri, come il bacio tra i cuginetti Ettore ed Emanuele. La località sciistica ormai è un luogo del cuore per i figli di Silvio Berlusconi e Veronica La. L'Ilario ha una grande villa che può ospitare tutta la famiglia, figli, nuore, generi, nipoti, consuocere Tate, ma da quando è diventato papà Luigi preferisce pernottare. L'Ilario ha una grande villa che può ospitare tutta la famiglia, figli, nuore, generi, la famiglia ha infatti sfruttato la piscina con acqua riscaldata dell'hotel. Fa sapere il settimanale. Nelle foto pubblicate dal settimanale si vedono Luigi e Federica prendersi cura dei piccoli con tanto amore e gio. Barbara Berlusconi adesso si trova in Inghilterra, sta facendo visita ai figli più grandi, Alessandro ed Edo. Mentre i più piccoli sono con il padre, Lorenzo Guerrieri, che è ospite a Ettore V, invece, si gode la neve in compagnia dei cugini e degli cugini.